Il Cinema Eden, oggi Galleria Vittorio Emanuele, fu costruito all'inizio del 1900 su commissione del commerciante Antonio Lavarini originario di Ornavasso, Verbania, Piemonte. La galleria è opera delle migliori maestranze pistoiesi del tempo. Le pitture interne sono di Ugo Casanova, le opere in legno dalla ditta Paglianti, quelle in ferro battuto e ghisa sono dalla ditta Michelucci. La facciata fu progettata da Pilo Becherucci e disegnata da Alfredo Michelucci.